Bentornati a tutti. Oggi è sabato, 6 luglio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Cancro. Luna nuova, ipersensibile e creativa. Vi piacerà la definizione babilonese di questo novilunio, le nozze cosmiche del sole e della luna nel vostro segno ufficiate da Venere, con Nettuno e Saturno intrigono come testimoni. Romanticismo, dolcezza e una grande affinità di coppia, peccato che come la bianca signora eccessivamente melensa, rischiate di diventare zuccherosi, vero che con un poco di zucchero la pillola va giù, ma alla lunga e in dosi eccessive il dolce diventa appiccicoso. Mettete dunque in luce le vostre prerogative, dosandole però con saggezza, farà bene a voi e anche alla vostra metà. Autostrada con code chilometriche uscendo dal lavoro, tutti diretti al mare, se vi credevate originale vagheggiando il bagno al tramonto probabilmente non ce la farete neppure per mezzanotte, rinviate il tuffo a domattina all'alba. Una donna bruna, la fidanzata, la moglie, una collega ben disposta nei nostri confronti. Una crisi in amore, in questo momento, può essere rimediata facilmente con successo. C'è una certa benevolenza intorno a voi, cercate di apoprofittarne, non lasciate comucnu e nulal di intentato. Può essere anche una parente o un'amica della persona amata. Meglio lasciar correre alcune situazioni del passato, oggi sono possibili ritorni, anche insperati o impossibili. Quindi restate calmi e in voi stessi e affrontate eventuali situazioni con serenità e soprattutto ascoltando gli altri. Non sperate di ritornare con la persona amata. È troppo stanca dei vostri tira e molla. Oggi potrebbero esserci delle vere e proprie novità in campo sentimentale per i nati di giovedì mattina. Per gli altri prosegue una piccola serie positiva ma attenti a non confidare troppe cose a persone appena conosciute. Spese impreviste ti preoccuperanno. Ci vorrà un po' di pazienza. Nel settore del lavoro ti potrai creare delle antipatie. Sorridi. Stress che non vi abbandonerà, sentite il peso di alcune responsabilità che avete. Spesso ve ne fate un problema, ma sempre più frequentemente state erdendo di vista il vostro obiettivo. Riflettete bene prima di prendere una decisione che potrebbe rivelarsi affrettata. Prendetevi una pausa con l'amore e cercate di riflettere bene a cosa state facendo. In ogni caso riflettete e molto. Oggi sorridete anche nelle avversità, non lasciatevi prendere né dalla malinconia né dallo scoraggiamento. Venere vi lascerà in balia dei ricordi del passato e potreste rattristarvi al pensiero di ciò che non è stato. Oggi portate tanta pazienza in ogni questione, avete Marte e Mercurio che non favoriscono comunicabilità e vi faranno irritare oltremodo. Meglio trascorrere la serata da soli o in compagnia di veri amici. Il prestigioso duo delle vostre due fate madrine, Luna e Venere, congiunte nel vostro segno vi fa vivere una giornata serena. Risplende oggi la forma fisica e, specie se siete nati nella terza decade cancerina, con l'appoggio di Urano, appare gratificata anche da un ottimo tono muscolare. L'ideale se vorrete provarvi nei vostri sport preferiti, come la corsa, il nuoto e la scherma. Mercurio e Marte, vi sorridono entrambi, facendo in modo che umore e vitalità siano in questo nuovo giorno di luglio al top. Luna nuova nel vostro segno, dunque un ciclo che ricomincia, con l'appoggio di Venere a tenervi compagnia ancora per qualche giorno. Compleanno introspettivo con il giusto mix, il passato è dolce e vi ha dato tanto, non resta che sperare in un presente altrettanto generoso e in un futuro migliore. Intuizioni, ricordi, sensibilità accentuata le prerogative odierne, che aiutano su tutti i fronti, amore, lavoro, vita sociale. Amore ed Eros. Braccio di ferro con il partner, voi lo dominate sottilmente, con la forza del pensiero, lui o lei lo fa in modo più grossolano, pretendendo di imporvi regole e principi che non condividete. Viaggiare cambia le vostre prospettive e allarga gli orizzonti, ecco perché vi sentite così diversi, è lo stile di vita e il tipo di frequentazioni differenti che vi allontana. La soluzione c'è, una vacanza insieme per ritrovarsi. Il team Saturno, Urano, Nettuno forma uno splendido aspetto e sembra proprio volervi stringere affettuosamente nel suo abbraccio. Vi preparate a discrete fortune amorose, specie se siete singli e appartenete alla cancerina seconda e terza decade diverso il discorso per la prima decade che, pur volendo lasciarsi andare con chi fa loro battere il cuore, non trova l'occasione e il coraggio per dichiararsi. Sappiano attendere il momento opportuno e il cielo garantirà un esito fortunato anche per loro. Lavoro e denaro. Interlocutore tignoso, avete il vostro bel da fare a convincerlo con la telepatia e la suggestione del pensiero. Evviva le vostre antenne sempre così funzionanti, captate i desideri dell'altro e li andate incontro, ma senza perdere terreno rispetto ai vostri. Creatività e fantasia le frecce nella faretra, utilizzatele ma solo al momento giusto e con la persona competente. Vi prodigate per chi si trova in difficoltà tra i vostri colleghi di lavoro. Marte in toro vi fa essere generosi e protettivi, specie se siete nati nella seconda decade. Saturno innalza il livello dell'altruismo. Benessere. Nulla da discutere sul benessere, siete belli come un fiore e altrettanto profumati. Bagni di mare o piscina termale il vostro toccasana, siete figli dell'acqua e dall'acqua ricevete salute, bellezza e relax. Acquatici anche gli indumenti e talismani, tutto verde acqua o grigio perla, al collo o in tasca cristallo di rocca o selenite. Per lei, meno male che è sabato, giusto l'ora di lasciare la città infuocata per correre ad abbracciare la natura. L'acqua è il vostro elemento che mette in moto il lato più romantico regalandovi ispirazioni geniali. Inizia un fine settimana tutto dedicato all'arte e all'amore. Per lui, voglia di musica, ballo, abbracci romantici sotto la luna. Peccato che la luna stanotte non si veda, come i sentimenti di chi sapete voi, intensi ma ben nascosti. Colore delle emozioni, blu notte. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 7, finanze, 9, benessere, 9. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.